Stai ristrutturando casa o l'impianto e hai molta confusione su che tipo di impianto realizzare? Cercando su internet hai trovato molte informazioni ma non sai che decisione prendere se non quella ovviamente di fare a meno del contatore del gas. Ti aspetto perciò all'evento Vivere Senza Gas. I tre specialisti più seguiti del web sul tema pompe di calore, ventilazione meccanica controllata e biomassa ti aspettano sabato 15 giugno a Padova. È l'unico evento dedicato alle famiglie dove ti saranno svelati i trucchi per fare un sistema che funzioni veramente e gli errori da evitare per investire bene i tuoi soldi e non bruciare i tuoi risparmi. Ma cos'è Vivere Senza Gas e cosa lo differenzia dagli altri eventi? Vivere Senza Gas è l'evento italiano dedicato a tutti coloro che desiderano fare delle scelte consapevoli dopo essersi informati su come riscaldare casa senza gas, gasolio oppure GPL. Seduti in sala a fianco a te troverai padri di famiglia, troverai giovani coppie che stanno ristrutturando casa oppure l'impianto facendo a meno ovviamente del gas. Partecipando a Vivere Senza Gas investirai in maniera più consapevole sul futuro della tua casa ottenendo competenze e nozioni sconosciute alla maggior parte delle persone che affrontano questi lavori. Vivere Senza Gas dura 4 giorni, 3 giorni di formazione online prima dell'evento e un evento dal vivo. Non ci saranno stand di aziende che vogliono vendere il loro prodotto come nelle fiere di settore. Quando passeggi alla fine tutti vogliono venderti il loro prodotto perché è il migliore. I diversi interventi sono organizzati per approfondire un metodo efficace nell'affrontare il progetto di casa tua. E i tre ospiti non sono i soliti finti esperti del web, ma sono tre specializzati nel loro settore e passano tutte le settimane in cantiere per seguire la loro attività. Vivere Senza Gas si pone l'obiettivo di fare chiarezza sugli impianti che non utilizzano gas, gasolio o GPL. Ci sono troppe variabili, troppa confusione e ognuno ti dice la sua. Il progettista, l'installatore idraulico, l'elettricista, il tuo amico che ha appena ristrutturato casa. Il metodo Vivere Senza Gas viene già applicato da diverso tempo e funziona. All'evento ti racconteremo dei diversi casi di successo, dei risultati ottenuti e della soddisfazione delle famiglie. Troppo spesso le fiere di settore offrono solo dei modelli esposti a titolo promozionale, senza avere un filo conduttore capace di dare una visione d'insieme degli impianti che devono comunicare tra di loro. Uscendo dall'evento avrai una chiara idea di cosa fare e come farlo a casa tua. Vedremo infatti la casa delle priorità, composta dai quattro elementi fondamentali per poter fare a meno del gas in modo sicuro e senza sorprese. I quattro elementi che andremo a sviscerare sono la fattibilità, la progettazione, l'installazione e la gestione. Questo perché i rischi di togliere il gas facendo dei passi sbagliati sono notevoli, come ad esempio rimanere al freddo, consumare troppa energia elettrica, quindi ricevere bollette salate, trovarsi un impianto ingestibile oppure un impianto completamente scoordinato. Nel prossimo video ti presenterò gli altri ospiti che saranno con me sul palco. E nel frattempo vai sul sito www.vivere-senza-gas.it per prenotare il tuo posto. www.vivere-senza-gas.it per prenotare il tuo posto.